Eccoci qui come è stato un saluto a tutti, ben ritrovati, vi dite come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi da questa parte, attivate anche la campanella mi raccomando. Qui sotto c'è il link al mio canale personale, potete iscrivervi, mi farebbe piacere, un canale diverso rispetto a Milanello, compatibile e complementare, in cui ci sono delle breaking news anche di Milan. Grazie per chi si iscriverà in questo momento. Io vi aspetto qui, potete andare e tornare e non mi muovo. Allora ragazzi, nel video precedente abbiamo approfondito le importanti novità che arrivano dall'America, from Forbes, from Jerry Cardinale, su Pioli, su Conte, andate a vederlo, mi raccomando se l'avete ancora visto, vi rimando a quello alla fine di questo video. Ora andiamo su tanto mercato. Innanzitutto leggevo un dato, Transfermart, che è un sito specializzato in calciomercato, come dati, database, statistiche, fa una valutazione, uno studio secondo cui oggi, a gennaio, la valutazione della Rosa del Milan è calata. C'è stata una svalutazione complessiva di una quarantina di milioni di euro, secondo i loro calcoli, a causa di una stagione negativa, di rendimenti deludenti, di mancata valorizzazione e giocatori che quindi prima in estate valevano di più e oggi valgono di meno. Tra questi c'è, credo, Ciuquezi, credo che ci sia Leao, tutto sommato credo che ci sia anche Teo Hernandez, viene invece valorizzato Jovic, credo che Rendez venga valorizzato, comunque sì, lo stesso Loftus Chic, magari Loftus Chic è più o meno su quella cifra lì. E' chiaro che poi se i giocatori sono anche infortunati, rischi che vengano svalutati, però insomma 40 milioni è tanto. E quando diciamo i danni di una gestione del genere, con anche tanti infortuni, una stagione deludente, sei fuori dalla Champions, sei fuori dalla Coppa Italia, sei fuori dal discorso Scudetto, sono danni anche di questo tipo, perché i giocatori se li valorizzi poi valgono di più, il patrimonio complessivo è più alto e superiore. Se invece tu non li valorizzi, calano, è un danno anche economico e finanziario dal punto di vista del calcio mercato. E nel video precedente comunque abbiamo detto che per Cardinale la misura è colma, ben venga da questo punto di vista. In questo quindi, insomma, il danno c'è. Tra le cose poi che osserviamo in questo video, in cui vi parlo anche di una suggestione clamorosa, osserviamo che ci sono giocatori che lo scorso anno erano al Milan, hanno fatto magari bene, alcuni male, e quest'anno invece stanno facendo molto meglio. L'esempio eclatante è quello di De Ketelare, no? Lo scorso anno ha fatto in 40 partite un assist e zero gol, quest'anno l'Atalanta in metà stagione, credo che abbia fatto qualcosa come sei gol e cinque assist, vado a memoria più o meno così. E quindi dici, ma come mai è Pioli che non l'ha valorizzato? Sicuramente anche questo è un elemento, è un fattore. Non aveva fatto male, ma quest'anno sta facendo molto bene, invece, per mia grande sorpresa, non lo rimpiango, però va detto che Brian Diaz nel Real Madrid, quindi Real Madrid, concorrenza ancora più importante, sta facendo cose straordinarie, perché ha fatto 20 partite, 6 gol e 3 assist, giocando 824 minuti, quindi è una media straordinaria. Lo scorso anno al Milan, giocando 2684 minuti, 45 partite, il triplo dei minuti, aveva fatto 7 gol, 1 in più di quest'anno che ha 6, e 7 assist, 4 in più. La prospettiva è di una stagione davvero straordinaria, di un Reim che l'altro giorno ha segnato anche in Supercoppa, contro l'Atletico, da fuori, superando il portiere che era uscito, in velocità. E' una sorpresa, non me lo aspettavo, però lo dico, non lo rimpiango, io lo switch, Brian Diaz, Pulisic, lo vedo come un incredibile upgrade. Pulisic ha fatto 6 gol e 5 assist soltanto in Serie A, è un giocatore molto più giocatore rispetto alle fiammate di Brian Diaz, che però pare, in Spagna, essere valorizzato. Ed è un altro caso che Via Dalmina fa decisamente meglio. Per colpa sua, è andato anche in un contesto ancora più di concorrenza, vero è che magari in Spagna è un po' più facile segnare, però, insomma, anche qui, è un secondo indizio che magari fa una prova. E poi magari mi dimentico anche qualcuno, eh. Sto pensando magari che mi dimentico qualcuno, che Cerro è stato ceduto e poi sta facendo bene. non sale Makers, ecco, che sta facendo una stagione complessivamente un po' deludente al Bologna, mi aspettavo qualcosa di più. Proseguendo in questo video, attenzione, perché, eh... Allora, potrebbe tornare al Milan a gennaio, quindi in questi giorni, Davis Vasquez, che era il portiere che avevamo preso proprio un anno fa. Era partito molto bene in Championship con lo Sheffield, aveva fatto anche delle belle parate, le avevamo sottolineate, però, in questo momento, lo Sheffield spinge con il Milan per restituirlo, per farlo tornare al Milan, o comunque per chiedere al Milan di trovare un'altra soluzione. Perché è cambiato l'allenatore? È arrivato Danny Roll, che ha messo un nuovo titolare e vuole prendere un sostituto diverso rispetto a Vasquez. Non so perché ce l'ha con lui questo nuovo allenatore, mi sembra che stesse facendo anche bene. Lui è stato preso perché era extracomunitare, poteva liberare uno slot, cosa che ha fatto poi in estate, ma anche perché poteva diventare occasione di plusvalenza. Se adesso non gioca più questo percorso verso una plusvalenza, rischia di venire un po' meno, però mi stupisce perché ha avuto un impatto davvero molto importante. Quindi vogliono riportarlo qui, il Milan può dire va bene oppure no, ve lo tenete. Però se lo tengono e non lo fanno giocare, forse è anche, cosa buona e giusta per il Milan, magari trovare una soluzione diversa. Un altro club che dia garanzie di impiego. Non so dove, in quale campionato, per lasciarlo lì che non gioca, ecco, sinceramente non ha senso. Proseguiamo in questo video, mercato pieno di notizie, ci spostiamo a Bologna. Lunedì, credo che fosse lunedì, o martedì, forse era martedì, avevamo fatto un video dicendo, un uccellino mi dice che il Milan si sta muovendo per Joshua Zirze, per prenderlo per la prossima stagione, per farlo diventare l'attaccante del futuro. Potrebbe essere preludio a Tiago Motta? Forse sì. Zirze, tra l'altro, confidato di voler seguire Tiago Motta nel suo futuro. E Tiago Motta piace anche la Juventus, così come Zirze piace anche la Juventus. Però il Milan ha mostrato dei passi ufficiali e concreti per il giocatore olandese, che sta facendo una stagione molto importante, anche se non è il bomber con la B maiuscola. Un giocatore però molto qualitativo. Ebbene, nelle scorse ore, il resto del Carlino, Bologna, quindi Fonte Bologna, zona Bologna, ha scritto che il Milan osserva con attenzione che si sta muovendo proprio per il talento di 22 anni olandese. Quindi anche, diciamo così, Sponda Bologna arrivano conferme su questa pista, che sembra davvero quella più calda, non ancora bollente, la definirei ancora tiepida, perché siamo a gennaio. Però il Milan vuole anticipare la concorrenza, muoversi prima, proprio perché se arrivi poi a maggio-giugno e arriva il Newcastle di turno, te lo soffia. Oppure a Juventus cede Vlaovic e a più di disponibilità economica te lo va a prendere. Ragionando insieme a voce alta, Zirze mi sembra più un'attaccante da Tiago Motta, per definizione, un po' meno da Antonio Conte. Mia sensazione. Però credo ancora una cosa, che il Milan in questo momento non abbia ancora le idee chiare sul tecnico, abbia due possibilità, Conte o Tiago Motta. Ma nel frattempo si muove seguendo le proprie linee guida, il proprio parere, che credo però debba essere condiviso poi nel momento decisivo con il nome del nuovo allenatore, per il quale non bisogna aspettare troppo, troppo tempo. Zirze, a me piace tanto, anche se non è il Super Bomber, poi è vero che magari può fare stato di qualità al Milan, sfruttando magari anche Leao e Pulisic, perché lui lì nel Bologna, con tutto rispetto per Rossolini, Salemach, predica un po' nel deserto. Se al Milan hai Leao da una parte, dall'altra c'è Pulisic, ne traggono beneficio loro, ne trai beneficio ovviamente anche tu. Quindi vediamo un po' le evoluzioni, dall'altra parte magari uno come Conte, con anche Ibrahimovic, può renderlo una punta spietata in area, che poi è lo step che gli manca e che a 22 anni può ancora compiere. Direi di sì. Quindi vediamo un po'. Poi, attenzione, un'altra cosa, un'altra cosa molto importante. Intanto, ecco, su Krunic, che va via, io dico comunque grazie a chi ha contribuito a quello Scudetto. Lui, le ultime partite le aveva giocate, la titolare, mette in un po' anche da Ben Nasserra. Ricordo quel recupero, palla contro l'Atalanta, davanti alla nostra area. Poi cede Pallateo, che va a fare il costo costo e segna, davanti a Migliocchi e San Siro. Gol fondamentale per lo Scudetto. Ha fatto mille ruoli, il terzino, il centrale di difesa, il centrale di centrocampo, la mezzala, il trequartista, l'esterno, la puzza, ma ha fatto un po' di tutto. Quindi ha avuto spirito di sacrificio. Mi spiace che finisca così male. E dico anche che è un po' un paradosso, anche se qualcuno non crede a questa ricostruzione. Lui, messo al centro del villaggio da Pioli in estate, Pioli che dice non prendetemi nessuno, ma tenetemi Krunic. Questo è cronaca, queste sono notizie, questa è la realtà. E dopo quattro mesi è fuori rosa. Abbiamo rifiutato 9-10 milioni in estate, ne prendiamo adesso la metà. Quindi c'è stato un danno economico, oltre che sportivo, perché metterlo lì non ha pagato. Quest'anno ha giocato davvero male Krunic. È finita male, si è messo di traverso. Credo che questo sia un ulteriore elemento nel dossier Pioli, la pietra tombale di quello che è stata una stagione fallimentare sotto ogni punto di vista per lui. Poi c'è una clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra, dalla stampa inglese, che riguarda il Newcastle, che come sapete è un progetto, diciamo così, arabo, con partecipazione di PIF, che speriamo possa arrivare da noi. Non sta facendo un gran che bene. È nono in Premier League, è fuori, è arrivato quarto nel nostro girone. Quindi il progetto che sembrava lo scorso anno iniziare a decollare è tornato un po' su livelli abbastanza mediocri. La notizia è che il Newcastle, società ammesso che potrebbe essere costretto a vendere grandi star a causa di un bilancio molto negativo di perdite annunciate da 150 milioni di sterline. Quindi anche i ricchi piangono vedendo che il progetto non decolla e soprattutto che le perdite sono importanti. I grandi star, quindi i giocatori, importanti. I social si stanno scatenando sul nome di Sandrino Donostro Tonali, ex nostro, che mi ha deluso dal punto di vista umano per quello che ha fatto, ha clamorosamente sbagliato, mi dispiace tantissimo. E paga e sta pagando per questo. Come è giusto che sia. Sui social si scatenano e sognano il ritorno di Tonali che tra l'altro era un profilo che Conte voleva all'Inter ma poi a quel momento aveva dato preferenza a Vidal volendo provare a vincere subito quella che era stata un po' la sua strategia. Ecco, secondo me questo centrocampo più Tonali sarebbe un centrocampo davvero formidabile. A me così già piace però c'è un elemento in più. Ripeto, è un sogno, una suggestione, non è in questo caso la notizia. La notizia è che cederanno giocatori che il progetto rischia un po' di perdere colpi e pezzi per strada. Se non vogliono più Tonali e lo vogliono far tornare indietro a prezzo di saldo sarebbe bello riprendercelo, ecco. Anche con un prestito oneroso magari. I social si stanno scatenando. Detto che certi amori fanno dei giri immeni e poi ritornano come era successo con Kakà sperando che poi quando sarà il turno di Tonali e secondo me arriverà prima o poi il turno di Tonali possa essere un ritorno più brillante rispetto a quello del comunque sempre amato Ricky Kakà. Ditemi che ne pensate scatenatevi con i commenti qui sotto lasciate un bel like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella ci vediamo presto per altri aggiornamenti vi rimando però al video precedente su Antonio Conte su Pioli su Cardinale e mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale personale qui sotto vi metto il link grazie per l'attenzione e un abbraccio a tutti forza mina oggi più che mai domani ancora di più ciao